Come ha detto Gaia, noi siamo un'assemblea transterritoriale che fa parte di Non una di meno e utilizziamo un approccio eco-transfeminista antispecista all'interno dei nostri discorsi e soprattutto all'interno delle nostre pratiche. Come movimento transfeminista conosciamo bene la violenza ambientale. Il piano di Non una di meno ha riconosciuto il biocidio e la devastazione ambientale come una delle espressioni della violenza patriarcale contro i corpi delle donne, delle soggettività LGBTQIA+, degli animali umani e non umani, della terra. Come movimento transfeminista conosciamo l'ambiente di violenza molto bene. Non una di meno manifesto ha riconosciuto il biocidio e la devastazione ambientale e è una delle espressioni della violenza patriarcale contro i corpi delle donne, delle soggettività LGBTQIA+, degli animali umani e non umani e della terra. Non possiamo non vedere come in diverse parti del mondo si stiano affermando governi reazionari e autoritari che promuovono politiche di dominio sui corpi e sull'ambiente, considerati risorse sfruttabili e a disposizione. In Italia stiamo vivendo una politica caratterizzata da un patriarcato fortemente violento, razzista, sessista, transomofobo e albilista, incubatura di quella saldatura tra lega neofascisti e fondamentalisti cattolici che, nelle amministrazioni locali e al governo del paese, cerca agibilità politica proprio sui nostri corpi, attraverso forme di oppressione, strumentalizzazione, imposizione di modelli e negazione di diritti e libertà. Noi non possiamo non denigare e non possiamo non vedere che in diverse parti del mondo ci sono reazionari e autoritari governi che si affermano a loro politiche che promuovono domini sui corpi e sui corpi e sui corpi, che sono considerate risorse di risorse. In Italia stiamo vivendo una era in cui politiche sono caratterizzate da una formazione molto violenta patriarca che è anche racista, sexista, transomofobo e albilista, e è l'incubatore della coalizione tra lega parti, neofascisti e catolici, che, nelle amministrazioni locali, come nel governo, cercano la legittimità politica per i nostri corpi, e per le forme di oppressione, strumentalizzazione e l'imposizione di modelli che vengono insieme alla negazione dei diritti e della libertà. Siamo convinti della necessità di assumere la prospettiva ecotransfemminista e antispecista nella lotta anticapitalista, antipatriarcale, per l'ambiente e contro le politiche che ci governano. Il nostro è un ecotransfemminismo politico, antispecista, post-antropocentrico e anti-essenzialista. Siamo convinti della necessità di assumere una prospettiva ecotransfemminista che è anche antispecista nella struttura anticapitalista, che è anche per l'ambiente e contro le politiche che ci governano. Il nostro è un tipo di ecotransfemminismo politico, antispecista, post-antropocentrico e anti-essenzialista. Sappiamo che alcuni dei concetti che utilizziamo appaiono complessi, ma riteniamo che siano estremamente utili per comprendere la realtà e i meccanismi di potere che guidano le interazioni attraverso cui si struttura il mondo. Siamo convinti che imparare a nominare i meccanismi di oppressione e modificare il linguaggio con cui si descrive e categorizza il reale sia un passo fondamentale per generare le trasformazioni per cui ci battiamo. No, 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 sorry. I modi di conoscere il mondo sono infatti inseparabili dai modi con cui in esso si agisce. Per questo nel descrivere il nostro posizionamento cominceremo con spiegare alcuni dei termini che utilizziamo nella nostra lotta politica. Si tratta chiaramente di termini situati e in divenire, poiché l'ecotransfemminismo non è tanto un approccio teorico quanto un percorso fatto di storie, esperienze e biografie che si sono fatte lotta di autodeterminazione e liberazione. La forma in cui noi conosciamo il mondo è infatti inseparabile da la forma in cui noi agiamo. Per questo motivo, per descrivere il nostro posizionamento, ciò che si tratta di spiegare alcuni dei termini che utilizziamo nella nostra politica struttura. Questo significa che stiamo parlando di termini che stanno sempre in un processo di cambiamento, perché l'ecotransfemminismo non è un approccio teorico, ma è un passaggio che si tratta di storie, esperienze, biografie che si tratta di autodeterminazione e liberazione. Il sistema di pensiero eurocentrico si è strutturato nei secoli attorno a una visione dicotomica del mondo, suddiviso così in poli opposti. Uomo-donna, natura-cultura, soggetto-oggetto, bianco-non-bianco, animale-umano, animale-non-umano, abile-non-abile tra gli altri. Il polo della natura è quello a cui vengono associati i corpi femminilizzati, animalizzati, razzializzati, il vegetale e la terra, costruendoli come corpi privi di storia e di cultura, di capacità d'azione, appannaggio del solo uomo. Il sistema di cui l'eurocentrico è stato strutturato, è stato strutturato durante centenze, è costruito su un sistema binario che diventa il mondo in opposizioni binarie. Man, woman, nature, culture, object, subject, white, non-white, etc. The way in which we think of nature is usually as a feminized body that is also animalized, racialized, and all this type of subject are made, are constructed as they are without a history or a culture, as they are without, they act without a capacity, and as this capacity belongs just to men. Si tratta di un sistema di pensiero antropocentrico da antroposumano e androcentrico da aneruomo, che ha posto cioè l'uomo con la U maiuscola, bianco, eterosessuale, maschio, abile e proprietario, come norma di riferimento, forgiando come subordinati inferiori, oggettificabili, mercificabili e liberamente sfruttabili tutti i corpi che non rispondano a tale norma. Now, this system of thought that is antropocentric and derives from antropos, which means human, and andro, which means man, has placed man with a capital U, male, heterosexual, white, able, and owner of land and belongings as their reference for the world. And anything that is not this type of subjectivity is subordinate, inferior, and disposable and made an object. And any, and made as, as it, let's, excuse, sorry, as any subjectivity that doesn't belong to this norm is made disposable. Questi meccanismi di oppressione hanno naturalizzato ed essenzializzato la divisione del mondo in due parti. Hanno cioè invisibilizzato i processi di costruzione culturale, sociale, relazionale, materiale che ha forgiato tale divisione e le categorie concettuali conseguenti, rappresentandole come naturali e innate, quando esse sono invece tutte storiche politiche e non universali. This mechanism of oppression has naturalized and essentialized this division of the world into two parts. And it has erased all the dynamics and the process of cultural, social, relational, material and political construction that is behind this construction. So anything that is not, that goes against this logic is made unnatural and not universal. Sulla base di esse, capitalismo e patriarcato hanno legittimato lo sfruttamento da parte del polo maschile e culturale su quello femminile naturale, designato come evidentemente inferiore. Per questo, le conseguenze della devastazione ambientale e della crisi climatica non agiscono su tutti i corpi allo stesso modo ne sono generate dall'umanità tutta con la stessa intensità. So capitalism e patriarca hanno legittimato la devastazione di tutto che è femminile e natural sulla parte del male e del male polo. La conseguenza della devastazione di l'environamento e della crisi climatica non agisce per tutti noi in la stessa forma. E'impacto sull'umanità non è la stessa intensità perché di tutte queste razioni. Come ecotransfemministu riconosciamo la non naturalità di questa divisione del mondo in due poli fintamente poggiata sul dato biologico che appiattisce la differenza tra i corpi che sono infinite per poter così facilmente gerarchizzare sfruttare e silenziare. Non c'è connessione causale alcuna tra materialità biologica e differenze che sono tutte relazionali e in continuo divenire. Per questo diciamo che il nostro ecotransfemminismo è antibiologicista e anti-essenzialista. Come ecotransfeminist riconosciamo che questa so-called natural divisione del mondo in due poli non è relato su alcun fatto biologico e che afflattano le differenze tra i corpi che sono in realtà infinite in una forma che facilite il processo di giro e silenzione di oppure subjectività. che ci sono non connessione che è causa e conseguenza in between la biologica materialità e differenze che sono relazionali e che sono in transformation. trans-ecofeminismi è anti-biologico e anti-essenzialista e riconosciamo che la materialità biologica dei corpi umani e non-umani è solo la relazione tra i corpi diversi e la interazione razzializzati rivendichiamo quindi l'alleanza tra i corpi femminili e femminilizzati razzializzati le soggettività LGBTQIA+, il non-umano gli animali e la terra come unica lotta possibile per raggiungere gli orizzonti di liberazione che ci prefiguriamo la nostra è però un'alleanza di tipo politico che si chiamano che si chiamano per l'alliance tra i corpi femminili e femminilizzati femminilizzati che sono racializzati LGBTQIA+, subgettività che non-humano e animali e la terra come un'unica che è possibile non pensiamo infatti che vi sia alcuna relazione innata tra donna e natura definizioni che come abbiamo espresso non esistono di per sé come realtà autoevidenti e innate ma sono funzionali al sistema capitalista e patriarcale per poter legittimare il suo funzionamento quello che ricerchiamo è un'alleanza tra soggetti umani e non che riconoscendo in quanti sfruttati e nel riconoscersi agiscano insieme orizzonti di lotta un'unica che riconosce che riconosce si riconosce Attraverso lo sguardo dell'intersezionalità l'oppressione si mostra come trasversale e allo stesso tempo si frattura in una serie di assi che agiscono in modo particolare su ogni soggettività. Il potere non assoggetta lo stesso modo ognuno di noi. Precisamente perché crediamo che diverse forme di oppressione e explotazione hanno la stessa matrice, il nostro approccio è interseccionale. Con un'intersezionalità l'oppressione si vedono l'oppressione come trasversale e allo stesso tempo si frattura con gli axi che aggiano in diverse mani e in diverse soggettività. Il potere non aggiano in modo stesso modo per tutti noi. L'ecotransfemminismo è antispecista perché oggi antropocentrismo e androcentrismo si fondono insieme come dispositivo di oppressione, predicando la pretestuosa sacralità della vita umana a scapito di quella di tutti gli altri animali, umani disumanizzati compresi, come le donne, i corpi frosci, trans e intersex. Questa vita umana appartiene infatti solo a quell'uomo con la U maiuscola. La norma antropocentrica separa ciò che è sacro da ciò che non lo è, chi è degno di vivere da chi non lo è, e quindi può essere macellato, discriminato, colonizzato, lasciato a negare nel Mediterraneo. Siamo antispeciste perché nessuno sarà libero finché non riusciremo a scardinare i meccanismi di dominio che continuano a scavare quella linea profonda sulla quale l'uomo si è costruito come padrone della terra. So discrimination on different species is not just a moral prejudice, in fact it is the effect of the institutionalization of symbolic and material mechanism through which animals exist out of any moral or political consideration. Ecotransfeminism is antispecist because we believe that anthropocentrism and androcentrism are founded on the same, they are founded and they act on the same dispositive of oppression and they predicate on the allegiant sacredness of human life that is above any other type of existence, of animals, of dehumanized humans included, of women, of, forgive me for this, of faggots, trans and intersex people. This type of human life doesn't belong just to the men with their capital M. The anthropocentric norm separates what is sacred from what is sacrifisable and from what deserves to live to what doesn't deserve to live and so that the youth, such as that there are bodies that are allowed to be massacred, annihilated, colonized and let drown in the Mediterranean Sea. We are antispecists because we believe that no one is free until we are able to erase the mechanism of dominion that excavate on the line between what is human and what is non-human and what is human as the owner of the world and as an antithesis of animal and in such a way that it is possible to discriminate and exploit and kill.